Musica Voleva aggiustare l'antenna, 13enne precipita e muore la tragedia a Gragnano. Stando ai primi accertamenti sembra che il ragazzo si sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell'antenna della televisione per poi perdere l'equilibrio e precipitare nel vuoto. Morta investita da moto sul web le immagini shock, è drammatico il video pubblicato su Instagram dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli. Fotogrammi che riguardano il gravissimo incidente stradale avvenuto a Napoli sul lungomare, costato la vita ad una 34enne. Quarantena ridotta cambia la lotta al Covid, il virologo Marco Falcone, ospite di punto di vista e d'accordo. Bene misure di contenimento più flessibili che evitano casi sommersi. Appello alla quarta dose per i fragili ed anziani, sono loro a rischiare ancora. Protesta dei commercianti, in vetrina le bollette e caro energia con aumenti da record. E da Napoli scatta la protesta degli esercenti, proposta da Confcommercio, le bollette salatissime esposte al pubblico. E anche la scuola riparte con i rincari, dall'Irpinia commerciante propone un lockdown di protesta. Salerno, pizzo e droga, colpo alla camorra, ha smantellato il clan che terrorizzava negozi e aziende di Sant'Egidio del Monte e Albino. A colpi di bombe e intimidazioni. Il procuratore Borrelli, clima di totale omertà, dottocianne, l'appello delle associazioni anti-racket. Benevento, niente medici, appello per il Sampio, carenza di anestesisti e difficoltà. Il sindaco Clemente Mastella, preoccupato per le condizioni dell'ospedale cittadino, appello dal primo cittadino ad affrontare la situazione con la neo-manager Murgante. Buonasera, ben trovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito con la cronaca in primo piano, la tragedia di Gragnano, morto a 13 anni mentre provava a sistemare l'antenna. E' il dramma di Gragnano, di Alessandro, precipitato nel vuoto a soli 13 anni. Vediamo. Tragedia a Gragnano, dove un ragazzino ha perso la vita cadendo dalla finestra di casa sua al quarto piano. Il 13enne voleva sistemare il cavo dell'antenna del televisore e così si è affacciato il più possibile dalla finestra dell'appartamento dove viveva. Una tragedia che questa mattina, poco dopo le 11, ha lasciato senza fiato il comune della provincia di Napoli. Alessandro era figlio unico ed era solo in casa quando si è verificato il terribile incidente. E' precipitato nel vuoto in via Lamma, a pochi giorni dall'inizio della scuola avrebbe frequentato la terza media. Credeva fosse un lavoretto alla sua portata a sistemare quel cavo, invece ha pagato con la vita. I genitori, professionisti affermati, molto conosciuti e stimati a Gragnano, erano fuori per lavoro e non avrebbero mai immaginato un tale destino per il loro unico figlio. Le urla, l'arrivo del personale del 118, i tentativi vani e disperati di salvarlo, ma è stato tutto inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dovuto alle numerose ferite e traumi interni procurati gli dalla caduta. Il dolore ha attraversato immediatamente tutta la cittadina di Gragnano. La notizia ha fatto immediatamente il giro delle case e sul posto sono arrivati tanti amici di Alessandro, accompagnati dai loro genitori. Fino a ieri sera si incontravano e facevano i progetti per il nuovo anno scolastico, oggi solo le lacrime. Sul posto anche i carabinieri che hanno transennato l'aria. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, aprendo un'inchiesta sull'accaduto e disponendo l'autopsia. Il corpo di Alessandro ora giace nell'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabbia. Ancora la cronaca, sono immagini drammatiche, quelle contenute nel video pubblicato dal consigliere Borrelli, consigliere della regione Campania. Fotogrammi che riguardano il gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì costato la vita ad Evira Zimbra. La 34enne investita ed uccisa da un centauro che a notte fonda procedeva impennando a tutta velocità su via Caracciolo. La giovane cameriera in un bar che si trova nei pressi del luogo dove è avvenuto l'incidente aveva terminato il suo turno di lavoro e rimasta gravemente ferita dall'impatto, violentissimo. Ferite rivelatesi fatali che non le hanno lasciato scampo nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Si vede chiaramente il centauro che procede ad alta velocità sulla via che costeggia il mare del Golfo di Napoli. La moto con la ruota anteriore sollevata dal stelsato colpisce in pieno Elvira Zriba scaraventandola a molti metri di distanza dal punto dell'impatto. I soccorsi purtroppo non le salveranno la vita. E adesso il Covid sfiorati 2.000 casi oggi in Campania ma intanto cambiano le regole della quarantena. Vediamo. Altri 1.947 nuovi casi di Covid in Campania su 12.758 tamponi processati. Tre i decessi e cambiano le regole per la quarantena. I giorni di isolamento infatti scendono da 7 a 5 per gli asintomatici oppure per quanti sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno due giorni. In caso di positività persistente si potrà interrompere l'isolamento al 14esimo giorno dal primo tampone positivo a prescindere dall'effettuazione di un test. Una soluzione necessaria come spiega il professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Pisa Marco Falcone, ospite del direttore Melillo a punto di vista. Visto che oggi questa malattia spesso è assimilabile a un raffreddore soprattutto nei soggetti giovani e sani, allungare di troppo un tempo di quarantena automatica, 7 giorni alloestamente con quello che vediamo oggi mi sembrano troppi, rischia di far indurre un meccanismo opposto. Cioè le persone si fanno la diagnosi con i test fai da te, non si fanno registrare, vanno in giro già al secondo giorno. Quindi è meglio tenerli 5 giorni a casa invece che 7 e non farli circolare liberamente qualsiasi giorno perché questo è quello che nella pratica sta succedendo. E sui decessi che ancora avvengono l'esperto spiega. Dobbiamo tenere in considerazione che molti di questi decessi però sono decessi attribuiti al Covid per il semplice fatto che il paziente si ricovera con un tampone positivo, molti di questi malati si ricoverano per altri motivi. Intanto in Irpinia risulta contagiato Franco Mazza, il dottore simbolo della lotta al Covid, che spiega come il coronavirus corre ancora veloce e non si è andato in vacanza e dice mascherina e vaccini sempre necessari. E adesso gli aumenti record, il caro bollette, commercianti e imprenditori in crisi con rischio di chiudere serissimo come raccontano ad Otto Channel, ma scatta la protesta a Napoli con le bollette salatissime esposte in vetrina. Vediamo. Non si ferma la protesta di commercianti e associazioni di categoria contro il caro energia. Gli aumenti di luce e gas cresciuti in modo vertiginoso negli ultimi mesi mettono a rischio le attività. A Napoli in scena la proposta di confcommercio, bollette in vetrina in segno di protesta. Gli esercenti sono ormai esasperati. È una tragedia. Ci auguriamo che lo Stato prenda provvedimenti, se no saranno problemi enormi. Ce la vediamo un poco brutta, la verità. Molto, molto brutta. Siamo un poco dispiaciuti di quello che sta succedendo. Sperando che dopo 40 anni non dobbiamo chiudere. 40 anni che sto qua. Sperando tanto che non dobbiamo chiudere. Arrivava l'anno scorso intorno ai 1.200-1.300 mensili. Quest'anno siamo a 2,2 mensili. Purtroppo, come sempre, siamo abbandonati. Siamo stati sempre abbandonati, noi commercianti. Come sono queste bollette? Salate, salatissime. Tre volte tanto. Diciamo che una bolletta di 900-1.000 euro è arrivata a 2.700 euro. Eccola qua, vedi? Sì, è vero la guerra, questo e quest'altro, però stanno marciando secondo me. Assaino poco. L'energia è quasi triplicata rispetto alle precedenti bollette. È difficile andare avanti l'appello a chi è? A chi dovrebbe curare gli interessi della popolazione. Ma intanto non c'è solo il caro energia, gli aumenti sui prodotti, c'è anche il caro libri con cui sono alle prese le famiglie campane. Vediamo. Servono interventi a sostegno delle famiglie alle prese con i caro libri. Così, Evelina Viele, esponente regionale della FLCCGL, che in vista del ritorno in classe, chiede di supportare i genitori nella spesa da affrontare per il corredo scolastico. Purtroppo i rincari che stiamo registrando e a cui stiamo assistendo in generale su tanti aspetti della vita quotidiana interessano purtroppo anche il corredo scolastico. Per cui le famiglie alla vigilia dell'apertura delle scuole si trovano di fronte a questo problema che davvero rischia di diventare molto serio. Di qui l'appello a governo e denti locali. Cercare di trovare modalità e risorse in modo da poterle convogliare in questo momento su un settore così delicato. L'appello è di intervenire subito, a livello centrale, magari con un blocco dei prezzi. Secondo gli esponenti del settore, infatti, i rincari arrivano fino al 20%. C'è un rincaro del 20%. Difficoltà c'è, sì, perché a partire dalla carta che è proprio aumentata e quindi di conseguenza è aumentato il costo del libro. I rincari sono del 20-30%. Si tieme inoltre che gli aumenti possano incidere anche sulle vendite e si prova pertanto a contenere comunque i costi. Tutto è aumentato e il nostro guadagno è sempre minimo in realtà. Finché riusciamo, teniamo prezzi bassi nella speranza che il cliente possa fare le sue scelte. Adesso le politiche verso le elezioni. Il patto per Napoli accende il confronto tra i candidati. Forza Italia presenta i candidati a Martuscello. Dice il patto non è in materia da campagna elettorale. Autonomia, reddito di cittadinanza e patto per Napoli sono i temi caldi che accendono il confronto tra partiti e candidati in campagna in questa breve campagna elettorale. Dal Partito Democratico Marco Sarracino, capolista ad Emma Napoli 2, si dice pronto a difendere l'accordo raggiunto da Manfredi con il governo Draghi. Se oggi non c'è più nessun rischio default per il Comune, è proprio grazie a questa battaglia vinta da Manfredi e dal PD, chiarisce Sarracino. Anche la candidata di azione e ministra per il Sud, Mara Carfagna, poche ore prima aveva lanciato l'allarme. Chi oggi approfitta dell'accaduto del governo Draghi per rimettere in discussione il patto per Napoli, probabilmente domani metterà in discussione la quota Sud del PNRR. Non possiamo permetterlo, dice la ex ministra di Forza Italia. Intanto il partito di Berlusconi ha presentato i candidati nella sede napoletana degli Azzurri e Martuscello replica tutte le accuse. Io dico, tiriamo fuori il patto per Napoli dalla campagna elettorale, smettiamo di utilizzarlo per tentare di detenare i voti da qui e da lì. Sono cose serie, la tutela dei creditori che devono avere i soldi dal Comune di Napoli, la tutela dei cittadini che necessitano migliori servizi per una città che deve avere gli stessi servizi che hanno magari i comuni del Nord. Ecco, quello che deve essere chiaro però è che questo non può diventare materia di campagna elettorale. Alla Carfagna, che parla di Forza Italia come partito degli estremisti, il coordinatore degli Azzurri risponde secco. Io alla Carfagna non rispondo, la Carfagna risponde alla sua coscienza. Ancora politica, Maura Striano, il nuovo assessore del Comune di Napoli, con delega all'istruzione, il sindaco Manfredi, ha fermato la nomina. Striano viene dal mondo della scuola, attualmente docente ordinaria di pedagogia generale e sociale presso la Federico II di Napoli. Una scelta in piena continuità con lo straordinario lavoro svolto da Mia Filippone, che ha lasciato un segno indelebile nel campo dell'istruzione e dell'educazione in città. Alla professoressa Striano il compito di proseguire lungo questo solco, dice Manfredi. Il neoassessore ha fatto sapere che tra le priorità della sua azione di governo ci sarà l'attuazione del patto educativo per Napoli per contrastare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione sociale. Adesso la cronaca, istorsioni e droga, nove gli arresti nel blitz dei carabinieri della DDA a Salerno. Vediamo. Disarticolato il clan camorristico e gemone nell'area di Sant'Egidio del Monte Albino e dell'agro nocerino sarnese, denominato Isi Maist, quelli di San Lorenzo, riconducibile alla famiglia Iannaco Sorrentino. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno ha smantellato il sodalizio criminale che esprimeva il proprio predominio sul territorio a suon di bombe e attentati contro negozi e aziende. Il procuratore capo, Giuseppe Borrelli, ha però sottolineato il clima di totale omertà con le vittime degli attentati e delle estorsioni che non hanno mai denunciato. Per le associazioni, invece, è necessario tutelare la legalità e le imprese. Ci debbono contattare perché dobbiamo avere ed aprire un piano per far capire l'importanza dell'obiettivo che è quello della denuncia. Lo so, non è una cosa facile. Dopo la denuncia, valutata anche un'intimidazione ambientale, coloro i quali hanno fatto la denuncia possono accedere l'accesso al fondo di solidarietà. Denunciare, oltre che un dovere morale, è anche un'operazione conveniente dal punto di vista economico. In questo modo, infatti, è possibile accedere ai fondi per indennizzare le attività finite nel mirino della malavita. Le immagini a cui abbiamo osservato, quindi le bombe, carta, le intimidazioni, i danni, sono rimborsate dallo Stato. Però ci deve essere l'apertura di una denuncia. È ovvio che l'imprenditore deve capire che è importante denunciare. Anche una denuncia contro i gnoti è importante. E adesso in Irpinia vi raccontiamo la proposta protesta di un commerciante alle prese, come tanti, con il caro energia e l'aumento dei prezzi e delle materie prime. Ebbene, lui propone un lockdown volontario. Vediamo. Aumenti e caro energia serrande abbassate di negozi e attività in ristoranti per protestare contro la crisi che avanza e le soluzioni del governo che non arrivano. E la protesta proposta di Michele De Maio, imprenditore della Valle dell'Irno, alle prese con l'aumento del costo di materie prime, trasporti e bollette da record, che rendono ormai impossibile portare avanti le sue aziende. La mia proposta è di chiudere, chiudere tutti. In questo momento a noi ci conviene chiudere e non andare avanti, perché è l'unica guerra che possiamo fare allo Stato in dolore. Ma anche le macchine non si devono muovere. Dobbiamo fare un lockdown come ci hanno insegnato loro due anni fa. Parliamo del caro bollette di oggi. Sono raddoppiate da 1.200, 3.200, anzi anche di più di raddoppiate, da 2.500 a 6.000 euro. Sono nel mese di luglio. Le altre materie prime sono aumentate più del 50%. Quindi non è solo il caro bollette che a noi ci comporta degli aumenti. È tutto. Quindi il nostro aumento, esempio più lampante, se una pizza da 3 passa a 8 euro, il consumatore finale non credo che la verrà a mangiare tranquillamente. Ma non solo. Secondo De Maio la protesta non sarebbe solo provocatoria, ma concretamente efficace, possibile e utile. Chiudere conviene perché lo Stato indirettamente ce l'ha detto. Il 21 marzo ha fatto un decreto legge che si chiama decreto energia, dove ai piccoli ristoratori, ai piccoli attività, ha dato 8 settimane di cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022. Chiudere per 8 settimane tutti insieme e non fare neanche benzina, non diamo né un danno ai nostri dipendenti, ma nel tanto facciamo anche un po' di rumore in strada. Adesso torniamo a Napoli, dove vi raccontiamo di un atto vandalico che indigna la pubblica opinione. Ebbene, è stato coperto con vernice nera il murales dedicato a Lucio Dalla nei quartieri spagnoli. Vandalizzato con dello spray nero il murales dedicato al compianto Lucio Dalla ai quartieri spagnoli a Napoli. L'omaggio al celebre cantante bolognese si trova tra Vico Concordi e via Emanuele Dedeo nel cuore degli itinerari dedicati alla street art in città. Mai nessun murales per un camorrista o un rapinatore è stato vandalizzato. Si infanga la memoria di Lucio Dalla o di Giancarlo Siani, ma mai niente contro la feccia della nostra città. Le parole del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che rilancia la denuncia del collettivo Miniera e dell'artista Salvatore Iodice attivi per la riqualificazione del Rione. È convolgente vedere che le persone non si rendono conto di questo cambiamento che arriva proprio attraverso l'arte. Dobbiamo avere anche la consapevolezza di capire ed essere coscienti di quello che abbiamo e di non distruggerlo più, perché non è possibile andare avanti in una città dove la notte si costruisce e la mattina si debbono alzare le macerie. Chi ha fatto questa cosa perché non capisce che il quartiere ha tanto bisogno di persone che arrivano da fuori. I Morales dei quartieri spagnoli sono diventati ormai tappa fissa per i visitatori, che non si spiegano quanto accaduto. Mi sembra un insulto più che altro, perché rovinare una cosa del genere, visto dove siamo soprattutto, non trovo né il motivo né il senso di una cosa del genere, sono sincero. Ma anche per le persone che vivono qua, per la gente di Napoli. Adesso parliamo della sanità, della sanità in affanno nel sagno. Pochi medici, anestesisti al Sampio. Il sindaco Mastella è preoccupato e chiama la nuova manager dell'ASL, Maria Morgante. L'ospedale è una condizione di difficoltà oggettiva, quindi si ha il dovere di intervenire. Le difficoltà del Sampio preoccupano Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che negli ultimi giorni ha scritto alla nuova manager, Maria Morgante, per affrontare la situazione del nosocomio cittadino, a partire dalla carenza di personale, in particolare anestesisti. Qua c'è una qualità medica anche capace, però gli strumenti a volte non ci sono, come in questo caso. Mi dicono che le sale operatorie non possono andare avanti senza anestesisti. Questo riguarda la chirurgia, riguarda la neurochirurgia, riguarda l'ortopedia, che riguarda la cardiochirurgia. Ci sono una serie di aspetti che sono importanti. Non è che possono andare via da Benevento, perché se ti piglia l'infarto, dove vai? E non puoi essere operato. E il sindaco avverte che un eventuale declassamento del Sampio non sarà tollerato. Noi non siamo di categoria C o di categoria B, rispetto agli altri ospedali. Non vorrei, come ha detto anche il Consiglio Abate, che possiamo considerare già un ospedale, come dire, da mettere da parte puntando su altri ospedali della regione Campania. Assolutamente no, questo non lo accetteremo. E voglio che la qualità della sanità pubblica sia elevata come per tutti. Non è che io posso andare a Roma con i miei cerci gemelli, altri no. Adesso andiamo a Salerno, parliamo di fede popolare, tradizione e unicità, della processione di San Matteo, che quest'anno farà tappa anche sulla costa per un saluto al mare. Vediamo. Un anno fa all'indomani dell'inaugurazione, piazza della Libertà, ospito il pontificale di San Matteo, patrono della città di Salerno. 12 mesi dopo, la maxiagora progettata da Riccardo Bofil entrerà a tutti gli effetti nel percorso della processione. Le statue dei Santi Martiri, Gaio, Ante e Sefortunato e quelle di San Giuseppe, San Gregorio VII e naturalmente di San Matteo, nel percorrere in corteo le strade della città, arriveranno anche in Piazza della Libertà. In quel punto sarà organizzato il saluto al mare, che storicamente si teneva in Piazza Cavour. Quest'anno è indisponibile a causa di alcuni lavori. Da capire adesso se la novità sarà confermata in futuro. Nel frattempo anche il comune di Salerno si sta preparando per vivere al meglio i festeggiamenti del Santo Patrono. L'amministrazione si troverà pronta a poter eventualmente organizzare anche dei mercatini rispetto alle proposte che noi avremo qui a breve. Poi tutto il darsi da fare anche perché, come dicevo, la festa religiosa si rispetta per quello che è la religiosità. Quindi siamo ben lieti di essere sempre parte vicino al nostro Santo Protettore e che possa veramente illuminare in un momento così particolare. Riteniamo che è un evento che è strutturato bene e ci porterà sicuramente sempre più di più l'immagine nell'ambito salernitano. In città intanto cresce l'attesa anche per capire se ci sarà il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici che negli ultimi anni è sempre stato organizzato dalle associazioni dei portatori. E adesso vi parliamo dell'itinerario delle fiabe per riscoprire la magia dei territori della Valle dell'Irno. L'iniziativa è stata presentata in provincia d'Avellino la presenza dei sindaci e dei cinque comuni coinvolti. La riscoperta del territorio attraverso il racconto delle fiabe due province Avellino e Salerno per cinque comuni per rilanciare il turismo enogastronomico e culturale. Questa mattina in provincia d'Avellino la presentazione dell'iniziativa itinerari da fiaba. Abbiamo fatto una questione di omogeneità territoriale ma soprattutto di omogeneità di un percorso che è stato posto a base della progettazione che è quello delle favole di Gian Battista Basile quindi la capacità di fare un itinerario che insieme come diceva Pasquale De Santis oltre ad attrarre a valorizzare a mettere in mostra quelle che sono le qualità di un territorio potesse anche avere un suo filo conduttore intorno a un elemento innovativo che è quello della favola. La prossima tappa il 3 settembre a Contrada. Facciamo un giro innanzitutto per la valorizzazione del nostro prodotto locale quello che insomma ci porta ad essere conosciuti nell'intera provincia che è la nocciola quindi ci sarà il coinvolgimento di ditte locali specifiche nel settore che porteranno spiegheranno quella che è la fase della coltivazione nonché della raccolta della nocciola per una sensibilizzazione anche dei più piccoli rispetto alla valorizzazione del territorio a seguire ci sarà un giro per le chiese contradesi anche per spiegare quella che è la nostra storia in modo tale che ci potremmo rendere conto che anche a Contrada insomma esistono dei musei a cielo aperto da parte mia è tutto grazie ad Orlando Matarazzo in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV Grazie a tutti Grazie a tutti